Sia lodato Gesù Cristo Un saluto carissimo a voi che ascoltate Gesù quest'oggi ci mette di fronte alla manifestazione del perdono dei peccati che viene dato dal Padre per mezzo di Lui e per renderlo visibile Egli compie il miracolo di guarigione di un paralitico così l'anima viene sanata, perdonata come quel corpo viene sanato immediatamente La gente dà gloria a Dio perché aveva concesso tale potere agli uomini Così dice il Vangelo Il perdono infatti viene da Dio Nessun uomo può perdonare i peccati nel se stesso Nessuno si può autoguarire Nei guarire gli altri da questo Noi possiamo perdonare gli altri per le colpe che abbiamo ricevute ma non possiamo togliere i peccati degli altri e neanche togliere i nostri Questa è un'operazione che fa solamente Dio Dunque non è sufficiente un percorso di convivenza con il peccato che noi possiamo avere per superare quello che è il senso di colpa ma è necessario che Dio tolga la colpa perché ogni colpa va a ferire Dio cioè va a ferire quello che è il progetto di Dio su di noi in quale modo L'immagine del paralitico nel corpo è l'immagine della deturpazione di un corpo che corrisponde a quello che è una deformazione dell'anima a causa del peccato Ora l'anima non viene deformata dal peccato solamente perché ci sono dei peccati attuali cioè quelli che noi commettiamo durante la vita dall'età di ragioni in avanti ma perché nasciamo in una situazione di peccato per cui la nostra situazione è già compromessa la situazione di peccato è quella del peccato delle origini e questo ci spinge a peccare nel corso della vita La volontà di non peccare viene da una coscienza che noi abbiamo dello stare di fronte a Dio e questa coscienza in genere è molto offuscata nella nostra epoca, nei nostri anni questa coscienza di peccato è quasi svanita e viene sostituita da altre spiegazioni oppure non viene sostituita per nulla ma viene perfettamente ignorata Si parla di senso di colpa come se fosse la stessa cosa del peccato In realtà il senso di colpa deriva da un senso di inadeguatezza con se stessi è un processo psichico Il senso del peccato invece è il senso di colpa verso Dio Negando Dio noi pensiamo di poter negare dunque anche la realtà del peccato Vivere senza Dio o ignorandolo o negandolo fa sì che ognuno possa sentirsi libero di fare ciò che vuole e di non avere neanche quelli che sono gli effetti dei sensi di colpa Ma in realtà il Vangelo ci dice qualcosa di più Dice che gli effetti del peccato sono deturpazione dell'anima Dunque tutti gli atti che conseguono al peccato sono atti degenerati Anche i migliori sono sempre inquinati dall'egoismo Quando poi l'egoismo non è altro che ciò che regna nel nostro cuore trionfo e dunque le nostre azioni sono non frutto di amore ma frutto di passioni, egoismo, egocentrismo, esaltazione di noi stessi perpotenza, arroganza, ingordigia tutte queste cose che ben conosciamo Ora in noi domini il peccato perché noi viviamo in questa immersi in questa dimensione psichica fatta di queste pulsioni E i nostri tempi, la nostra epoca vedono ben poca capacità di guardare all'anima superando questa che è la dimensione psichica che è un effetto e al tempo stesso un condizionamento di quello che è l'azione dell'anima Ovvero l'anima essendo specchio della luce di Dio quando viene imbrattata, paralizzata dal peccato è sempre più incapace di vedere la luce di Dio dunque di vedere se stessa Dunque anche il giudizio che noi abbiamo di noi stessi è molto diminuito e ricade in quelli che sono le osservazioni dei processi umani, psichici che ben conosciamo e che trovano spiegazioni o soluzioni in un modo o nell'altro Dunque il nostro mondo è un mondo che vive senza la coscienza del peccato Non per questo il peccato è tolto Agire nel male senza la piena coscienza del male che si fa non evita il male stesso Anzi, gli effetti si accumulano e viene tolto la via del rimedio perché il rimedio è avere coscienza di ciò che facciamo davanti a Dio ed avere coscienza dell'amore di Dio di tutto quello che fa per noi per toglierci da questa situazione di deformità e di paralisi e di morte in cui noi viviamo Quest'azione di Dio la vediamo quanto più noi sappiamo scorgere nell'anima il suo amore e corrispondendo al suo amore noi vediamo i nostri difetti che è ciò che siamo e le nostre azioni quando non sono buone che è ciò che noi facciamo Ma vediamo anche ciò che siamo di buono e ciò che noi facciamo di buono però l'anima percepisce perfettamente che il bene che noi facciamo viene da Dio e dunque è una corrispondenza della nostra volontà con quella di Dio così come Dio è un tutt'uno con la volontà del suo Cristo In un processo di guarigione dell'anima che avviene con la continua purificazione dei nostri peccati mediante la confessione e l'eucaristia noi entriamo in una luce e in una lucidità d'anima e dunque di coscienza sempre maggiore e da una parte sentiamo la felicità di essere come sollevati verso Dio dall'altra però vediamo tutta l'inadeguatezza della nostra persona della nostra anima queste due cose si combinano insieme e ci spronano a accettare tutto quello che Dio ci manda per purificarci a rendere grazie a Dio perché mediante il Cristo col suo sacrificio di espiazione ha tolto il mio peccato al tempo stesso mi chiede di rendere guarita l'anima e di metterla in azione l'anima guarita deve cominciare a camminare e a compiere passi di bontà di corrispondenza della luce e dell'amore di Dio man mano che procediamo nel bene il bene incrementa il bene e l'egoismo viene sempre più ridotto così inizia in noi il percorso di vittoria sul male che è in noi perché l'azione di Cristo sta agendo in noi questo è il perdono del peccato non è solamente una cosa puntuale ma è un processo molto lungo profondo di guarigione della nostra anima perché possa presentarsi santa e immacolata davanti a Dio Dio vi benedica grazie a tutti grazie a tutti